mi pare di sì ecco le entrate in campo per la prima di campionato nazionale categoria under 13 esordienti fair play Virtus Castelfrentano Virtus Axanum la Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa mentre l'axanum è bianca con strisce rosso nere oggi per la campagna contro il razzismo tutti i ragazzi sono scesi in campo con un segno verde sul viso la prima gara del campionato nazionale categoria esordienti under 13 fair play campionato nazionale Virtus Castelfrentano Virtus Axanum la Virtus Axanum con la divisa bianca con i calzettoni neri mentre la Virtus Castelfrentano con la divisa giallorossa classica contiamo i rigori eh solo contare i rigori ecco c'è il shutdown c'è una serie di rigori primo rigore parato tirato da Nicola Travaglini che ci riprova palo niente due tiri nessun gol